Situazione ad alto rischio. La cabina di monitoraggio nazionale conferma quanto già analizzato nelle ultime ore dai vertici sanitari regionali. Il covid in Umbria continua a colpire in maniera implacabile, complice il diffondersi delle varianti inglese e brasiliana che hanno attanagliato il canonico contact tracing portato ad una soglia sempre più critica agli ospedali con aumento di contagi, ricoveri ed eccessi. Partiamo dai numeri delle ultime 24 ore. 494 i nuovi casi su 4047 tamponi molecolari effettuati, oltre 3846 test antigenici, 12 i decessi in più accertati rispetto a ieri e 523 i ricoveri complessivi negli ospedali Umbri di cui 84 in intensiva mentre sono 157 guariti. Il tasto di positività sale a 6,25% più 2% rispetto a ieri e al 12,2% rispetto ai soli tamponi molecolari. A Gubbio tre nuovi casi con 13 guarigioni e 174 attualmente positivi. A Gualdo Tadino un nuovo positivo tra i guariti e 63 casi totali. All'ospedale di Branca invece negli ultimi due giorni è stato aumentato fino a 22 posti il reparto di medicina riservato ai pazienti covid riempito in sole 24 ore mentre i posti letto di terapia intensiva non covid sono aumentati di 7 unità raggiungendo complessivamente 13 posti letto ricevendo pazienti da ogni parte della regione. Un quadro senza dubbio preoccupante tanto che anche l'ECDC, European Center for Disease Prevention and Control dell'Unione Europea, ha inserito dall'11 febbraio l'Umbria nelle aree in rosso scuro. L'istituto superiore di sanità ha classificato a rischio alto soltanto la regione Umbria oltre alla provincia autonoma di Bolzano e dopo il consueto monitoraggio il ministero della salute ha confermato zona rossa rafforzata per l'intera provincia di Perugia e zona arancione per l'area ternana esclusi sei comuni come da ordinanza regionale che rimarrà in vigore fino al 21 febbraio ma non sono escluse nei prossimi giorni modifica la geografia dei territori interessati dai provvedimenti. In ottica nazionale passano in arancione Liguria, Toscana, Abruzza e provincia di Trento e l'ultimo consiglio dei ministri del governo uscente ha prorogato fino al 25 febbraio il divieto di spostamento fra regioni. La preoccupazione maggiore del nucleo epidemiologico riguarda le varianti. In 5-6 settimane la variante inglese potrebbe sostituire il virus covid ora circolante, ha detto il presidente dell'istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, sottolineando che comunque tale variante risponda al vaccino, mentre il direttore della prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza ha evidenziato come le varianti sudafricana e brasiliana possono ridurre parzialmente l'efficacia dei vaccini, quindi serve maggior celerità sulle tempistiche di profilassi alla popolazione.